ciao a tutti ragazzi e benvenuti sull'eleking tv ragazzi è un autunno e un inverno di fuoco con le raccolte calciatori panini e non soltanto ragazzi perché sta uscendo il mondo ragazzi sta uscendo il mondo siamo qui con un'altra novità che è uscita in eticola video che è arrivato logicamente come sempre un po più in ritardo degli altri perché ho avuto dei problemi familiari ragazzi e abbiamo qui questo bell'album di fifa 365 2022 ragazzi si inizia anche con questa raccolta ormai sono anni che la stiamo portando sul canale sono anni che stiamo cercando di portarla a termine perché l'abbiamo portata a termine sempre quando l'abbiamo portata sul canale e soltanto gli anni in cui non non avevo ancora il canale quindi quelli prima del 2017 che questa raccolta insomma magari non sono riuscito a completarla ma gli anni del dell'avvento del canale youtube l'eleking tv l'abbiamo sempre completata ragazzi siamo pronti iniziare io direi di iniziare a spacchettare su starter pack che costa 3,90 euro ragazzi vi ricordo e vediamo com'è questa raccolta quest'anno mi sembra molto molto bella già dalla copertina ma anche altri video che ho visto mi sembra molto molto interessante ragazzi ci possiamo veramente divertire tantissimo andiamo allora eccoci qui finalmente sul tavolo ad aprire questa collezione di fifa 365 2022 lo starter pack costa 3,90 euro ci sono 5 bustine se non sbaglio perché 25 figurine si c'è l'album più 5 bustine bustine costano sempre 80 centesimi l'una ok quindi le 5 bustine sarebbero 4 euro quindi praticamente ci regalano l'album con lo starter pack giriamo questo starter pack in modo che possiamo già vedere in anteprima più o meno come sono le figurine come vediamo ci sono di varie grandezze poi ci sono quelle con i giocatori in movimento che sono separate come l'anno scorso questa è l'impaginazione dell'album ci sono gli stemmi sono molto molto simili a quelli dell'anno scorso copertina molto molto bella e direi che possiamo iniziare ad aprirlo prima di iniziare ad aprirlo ragazzi ho fatto caso ad un'altra cosa qui che praticamente come dice qui sopra questo starter pack la collezione complende più di 400 figurine quindi non si sa più o meno quante sono adesso lo andremo a vedere e 30 squadre ok aiutiamoci con le forbici cercando di non tagliare l'album che è la cosa più importante è quella di non tagliare questo splendido album a me comunque se raccolte dei fifa 365 piacciono molto speriamo che la panina continua a farle ecco qua siamo riusciti nell'intento di aprire questo questo scrigno che è questa confezione dello starter pack questo ce lo teniamo che ci conserviamo l'album affinché non lo completiamo le cinque bustine eccole bustine che hanno lo sfondo dell'album questo pallone con questi con questi inserti viola questo sfondo blu qui c'è poi l'immagine quadra 2022 quindi sicuramente ci saranno delle delle figurine che saranno un'anteprima di quello che sarà poi il mondiale che poi dovrebbe uscire anche rotto quadra 2022 in teoria questo inverno stiamo aspettandolo per poi aspettarlo per poi portarlo sul canale come poi porteremo anche quelle proprio del mondiale impaginazione dell'album in copertina mi piace c'è lucago c'è messi c'è donna rumma con la maglia della nazionale hanno tutti la maglia dei club meno che donna rumma che a quella della nazionale perché non lo so forse per per evitare che magari si possano risentire qualche tifoso del 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 milan no secondo me io adesso ci sono arrivato perché non ha la maglia paris saint germain perché altrimenti mettevano due calciatori paris saint germain in copertina e non si poteva fare allora l'hanno messo con la maglia dell'italia è stato un escamotage per poi mettere sia donna rumma che messi il che altrimenti avrebbero dovuto sicuramente togliere uno di due come è successo l'errore invece su la copertina della trenali che pare che avevano messo due giocatori del milan e che si poi c'è su ares con la maglia dell'atletico madrid c'è l'autaro martinez con la maglia dell'inter e poi ce l'abbiamo un altro del bayern monar allora apriamo qui ci spiega più o meno quello che significano le varie cose che troviamo scritte sulle figurine o sull'album c'è questa prima pagina con una figurina doppia e un'altra penso sia tipo scudetto per lo sfondo in cui c'è c'è l'applicazione va bene forse per fare la figurina via dicendo ci sono i sei album i sei album della raccolta di fifa 365 allora io ho completo sicuro il 2018 2019 2020 2021 ok mi mancano questi due 2017 2016 che non l'ho completato allora abbiamo la prima pagina che è il boca e guardiamo l'impaginazione allora star player quindi qui c'è una figurina grande del giocatore principale del club racing star quindi sarà sicuramente un giovane una giovane promessa il logo del club la maglia del club che sta qui spostiamo se lo facciamo vedere e col numero 18 che cos'è questo il pallone ball ballone pallone scritto o pallone vabbè pallone pallone del club vabbè non la capisco bene questa cosa poi la vedremo caso mai quanto andiamo a spacchettare le prime figurine c'è uno scan che ci porterà poi a qualche informazione sul club poi vediamo intanto le squadre che ci sono c'è il palmeiras c'è il celsi c'è il liverpool c'è il manchester city c'è il manchester united c'è l'atletico di madrid c'è il barcellona c'è il real c'è il villareal c'è l'olimpic lione per le francesi c'è il paris saint germain c'è il bayern monaco borussia dortmund qui vabbè questa è pubblicità c'è l'olimpiacos c'è il pauc c'è l'inter per le italiane c'è la juventus e c'è il milan non so c'è un'altra italiana no le italiane sono queste poi iniziano le sudamericane c'è la parte che no pure prima c'erano il tigers e l'ajax c'è lo shaktar donets ci sono i cagliardetti questa volta sono stampati delle varie squadre non come l'anno scorso che c'erano ecco qui c'è il paragrafo dedicato a quadra 2020 qui parliamo di che cos'è quadra 2020 qui quadra del 2022 invece il mondiale poi abbiamo l'argentina allora abbiamo l'argentina ecco qui quindi ci sono anche le nazionali ok questa cosa qui mi lascia un po' perplesso perché ci sono i nazionali vabbè nazionali il belgio il brasile l'inghilterra vediamo che nazionali ci sono la francia la germania l'italia il quatar fifa war cup story ok e qui penso che ci siano forse dico forse le copertine degli album non lo so bisogna vedere sempre mentre spacchettiamo che succede qui c'è il codice che copriamo e poi c'è fifa torneo ok c'è quello di beach soccer futsal world cup lituania non so che cosa sia va bene ragazzi questo è l'album questo è l'album direi di iniziare ad aprire questi cinque pacchetti che stanno all'interno dell'album poi faremo un altro video con ce lo mi manca visto che il video è venuto abbastanza lungo e non mi sembra caso di continuare abbiamo hermoso abbiamo lodi per quanto riguarda l'atletico madrid abbiamo foten abbiamo petri e de jong matip e robertson poi abbiamo questa copertina qui andiamo avanti chi altro ci sta no un'altra volta già un doppione hermoso e lodi un'altra volta herrera ecco che mario casper e mandi poi abbiamo ok queste figurine qui il borussia dortmund con cobel e itz andiamo con il terzo pacchetto che ci sta dentro il terzo pacchetto ci sta akashi e hummels rashford e sancho holland holland bomber bella figurina kurtis boateng e du bois antoni che haller dell'ajax gonzalez e martinez per quanto riguarda l'argentina verdao ecco il pallone ragazzi ma niente di che sta figurina sinceramente un pallone con i colori della società ma vabbè a fif reali e enderson e iones poi abbiamo l'ultimo pacchetto che vediamo che ci porta l'ultimo pacchetto pascagis pascalakis scusate zivkovic les gones bruno fernandez e fred dias stones e chiesa e kin questo è tutto ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti